Anche l'amministrazione del decimo municipio celebra la giornata internazionale della sindrome di Down. Questa mattina alcuni ragazzi disabili del territorio che si sono distinti nel lavoro, nello sport e nell'arte hanno preso parte, insieme ai loro familiari, alla Commissione Politiche e Sociali, presieduta dal consigliere Alessandro Nasetti, che ha dichiarato Abbiamo parlato di come si sia evoluto il rapporto fra la società e le persone Down, passando dall'isolamento degli anni 70 al diventare delle vere e proprie risorse nei giorni nostri con gli stimoli giusti infatti possono integrarsi nel mondo del lavoro, ottenere soddisfazioni in quello sportivo e arrivare a livelli artistici di alto profilo, ha concluso Nasetti e grazie alla partnership tra l'Associazione Anfas di Ostia e l'Istituto Giulio Verne di Acilia il tema della disabilità è finito sui banchi di scuola, diventando una vera e propria materia di istruzione Le tematiche che andremo ad affrontare con gli studenti sono varie, spiega Stefano Galloni, direttore generale di Anfas Penso alle barriere architettoniche, ai principali strumenti di comunicazione diversificata, come il linguaggio facile da leggere e comprendere e altri più pratici come la fruizione turistica, che sarà una materia dalla forte impronta lavorativa Tra gli obiettivi della sperimentazione infatti ci sarà quello di creare un vero e proprio profilo professionale con ottime prospettive di occupabilità, ha terminato Galloni Grazie a tutti